Good morning Juventus. Good morning Sandro. Trema Sandro, trema. Spinazzola l'hai fatto fuori, Pellegrini l'hai fatto fuori. Adesso però c'è cambiaso. Magari Allegri continuerà a far giocare te perché si sa no tra personaggi strani ci si intende però io se fossi in te un po di stizza ce l'avrei perché cambiaso che è praticamente una cosa fatta che devono soltanto trovare la quadra sulla differenza tra cambiaso e dragosin che diventerà giallo blu a tutti gli effetti secondo me cambiaso pian pianino zitto zitto cacchio cacchio ti porta via il posto e sarebbe veramente una goduria meravigliosa perché io non ho più palle di idea di come tu possa giocare una Juventus ovviamente avendoti visto soltanto nel Genoa e non sempre e non spesso ma francamente l'idea che tu possa essere diciamo così detronizzato perché di un trono vero e proprio si tratta la tua la tua posizione perché sono sette anni che giochi nella Juventus e praticamente nessuno riuscite a scalzarti nonostante sia sei anni che fai schifo perché negli ultimi sei anni hai fatto veramente schifo una roba inguardabile come giocatore penso che sei stato il peggiore di tutta la rosa di tutti quelli comprati e sto parlando di quelli scarsi non sto parlando di tutti in generale quindi staremo a vedere staremo a vedere se cambiaso avrà la forza avrà la capacità avrà la costanza la sagaccia di portarti via il posto considerando che a giugno ti levi dalle balle perché finalmente ti scade il contratto incrociamo le dita augurandoci che non ne venga qualche folle idea ai nostri dirigenti di rinnovartelo se cambiasso dovrebbe veramente giocare bene e dimostrare quello che tutti noi juventini ci aspettiamo ovvero essere capace di verticalizzare essere capace di crossare essere capace di venire sul fondo che sono poi le cose sandro che si chiedono un terzino e che tu non le sai fare non ho ancora capito qual è il tuo ruolo francamente a parte quello di camminare in infradito con il mojito e la papalina in testa per cui signori oggi oggi ogni tanto sapete che nel good morning mi piace lanciare delle sfide e allora io oggi lancio la sfida a sandro magari la vincerà lui è assolutamente però non si può mai sapere io ovviamente tifo per cambiasso voi perché ti fate fatemelo sapere qua sotto nei commenti good morning juventus